Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Questa mattina l'Italia si è svegliata con una forte scossa di terremoto che ha provocato due frane. La popolazione si è riversata nelle strade in preda al panico. Ecco quanto accaduto. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata nel mare delle Isole Eolie, a sud del vulcano. Il sisma si è verificato alle 8.12 a 3 km di profondità. Alle 8.18 un'altra scossa è stata registrata sempre a largo delle Eolie con magnitudo 2. A seguito del primo sisma, a Lipari sarebbe franata una porzione di costone. La popolazione delle Eolie, spaventata, si è riversata in strada. Hanno tremato le case. Vetri rotti in alcune zone e in ospedale sono caduti in tonaci. Come riferisce il notiziario delle Isole Eolie Online. Sempre stando al notiziario delle Isole Eolie Online, c'è stata un'altra frana a mare, in prossimità della spiaggia di San Nicola, sottostante a quella di Valle Muria. Le scosse alle Eolie sono state precedute e seguite da altri due terremoti nel tirreno meridionale, tra le isole e la Calabria, con magnitudo 2.6 e 2.9. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.